Siamo con Daniele Iacoponi, titolare dell'azienda Frizzanz che realizza impianti antizzanzare a nebulizzazione. Ci troviamo in un noto ristorante di Montecadini Terme in Toscana che sta utilizzando il vostro impianto. Con voi la zanzara a vita breve, lo possiamo dire? Sì, diciamo che con noi la zanzara riusciamo a controllarla e a ridurla notevolmente, specialmente negli ambienti ricettivi dove la zanzara è un problema. Che cosa offrite sul mercato? Diversi prodotti per diverse esigenze dei vostri clienti? Abbiamo realizzato prima le macchine più evolute, professionali, per controllare spazi molto ampi. Poi abbiamo sviluppato macchine più semplici per l'utilizzo della famiglia, accessibili a tutti anche economicamente, sia come costo dell'unità centrale ma anche della ricarica di consumo. Per controllare, ecco, spazi da 100 metri quadrati fino a esigenze molto più grandi. Senti Daniele, ma perché le classiche disinfestazioni non funzionano più oggi? Perché la zanzara si è evoluta molto negli ultimi tempi, tanto che la zanzara tigre ha presso il dominio dei nostri territori e con i nostri interventi di 2-3 minuti al giorno di nebulizzazione con prodotti sicuri e naturali riusciamo a spostarla, a deviarla, a controllare l'area protetta e quindi a renderla felicemente vivibile. Senti, quanto conta per la tua azienda la sperimentazione e l'affidabilità? Conta molto perché abbiamo proprio realizzato le macchine e rese affidabili sul campo. Quindi prima di proporci abbiamo affinato la tecnologia nonché i prodotti, anche i prodotti che sono stati sviluppati, formulati appositamente per essere nebulizzati. Quali sono i campi di impiego del tuo prodotto ma soprattutto i benefici? I campi di impieghi sono molto, abbiamo fatto impianti quasi ovunque, dall'ambiente privato, la classica villetta, giardino, ma anche l'albergo di 10.000 metri quadrati, ristorante come la stalla, industria di stoccaggio di materiali rifiuti per l'abbattimento degli odori, nonché il controllo degli insetti perché sono ricchi di materiali organici. Quindi i campi di impiego sono molti, le macchine sono molto dinamiche e si possono adattare ad ogni tipo di situazione. Quindi basta che il cliente ci faccia la sua richiesta, noi cercheremo di metterci in gioco per soddisfare le richieste. Tutti soddisfatti i clienti? Tutti soddisfatti. Diciamo che siamo riusciti a soddisfare la nostra clientela. Grazie Daniele, grazie per questa intervista e buon lavoro. Grazie a voi, colgo l'occasione per ringraziare anche il nostro staff e i nostri collaboratori.